Ciao, io sono Martino Gozzi, sono l'AD della Scuola Holden e oggi abbiamo parlato di storie e di luoghi, di come spesso le storie colonizzano i luoghi o li esauriscono, come dicevano gli autori francesi come Georges Perec. A me sembra che le storie ci diano la possibilità di appropriarci dei luoghi nel senso che finiscono per abitarli. Sono immagini, racconti, storie, vita che noi sovrimponiamo ai luoghi come in un effetto ottico e che finiscono per definire quel luogo, per renderlo iconico. Ciao, grazie!